ciao a tutti grande traguardo per il centro coordinamento dell'anaclabs che sta organizzando pensate un po il terzo pullman per la trasferta di ferrara per cui sono aperte le prenotazioni attraverso i numeri che trovate nella pagina facebook del centro coordinamento dell'anaclabs o sul loro gruppo facebook centro coordinamento dell'anaclabs sono aperte le prenotazioni per completare questo terzo pullman e chissà continuare a farne visto che la trasferta di ferrara è molto sentita da parte dei tifosi rossoverdi che all'ultimo aggiornamento erano 684 i biglietti venduti su 1490 che sono previsti per il sold out per cui presumo che si vada sopra le mille unità a ferrara visto che si gioca sabato primo aprile alle ore 14 e ancora manca e quindi ancora ci sono diversi giorni di provendita da qui a sabato quindi probabilmente ci sarà un grande esodo rossoverdi a ferrara il centro coordinamento è riuscito a completare due pullman e sta raccogliendo le prenotazioni per il terzo pullman appunto per il resto vi segnalo alcune trasmissioni di questa sera iniziamo da m3 di television canale 84 nel digitale del resto e dove alle sette e mezzo ci sarà sette e mezzo di fera con alberto favilla e francesca totori e poi in serata ci sarà luce a liberati sempre su m3 di television per quanto riguarda umbria più canale 15 nel digitale del resto abbiamo aree rosso verde e per quanto riguarda la pagina facebook c'è quattro chiacchiere rosso verde passione rosso verde per parlare di ternale a spalle e delle prossime partite delle fere per il resto il centro coordinamento sta raccogliendo le prenotazioni per il terzo pullman quindi se vi va prenotatevi nei numeri che trovate sui loro profili social come funziona e Grazie.